Oggi, visto il tema molto cupo, ho deciso di registrare questo video all'oscuro delle forze del male che ci guardano. Non è vero, non è vero, accendiamo le luci che non si può stare qua, guarda qua, guarda qua, accendiamo, mamma mia, sembra di essere... Guarda qua, guarda qua, come ci siamo rinnovati, sembra di essere al... non lo so, al circo, non lo so, da qualche parte, molto illuminata. Buongiorno, vi interessa, questo vi interessa, mentre lo scrivevo stavo già godendo, detto madonna qua, gente che lascia l'Italia, persone che strappano via la cittadinanza, richieste di passaporti che aumentano, smuoveremo il nostro bel paese, lo stivale, di persone che ora scopriranno quali sono i paesi più, diciamo, indicati se proprio non abbiamo questa voglia di pagare le tasse sulle criptovalute, si può fare legalmente, non in Italia, perché come vedremo in Italia, in realtà, tra l'altro proprio da poco hanno prorogato la scadenza per, diciamo, l'invio dei quadri RT, RV, eccetera, eccetera, ne parleremo dopo, vi dico già adesso che non approfondiremo questo aspetto, ma mancano pochissimi giorni, quindi se volete più dettagli su cosa fare, se siete residenti in Italia, fiscalmente, dovete dichiarare le criptovalute, eccetera, eccetera, scrivetemelo qua sotto nei commenti, se siete almeno 50 persone che vogliono questo approfondimento, settimana prossima, a una settimana prima della scadenza, vi dico cosa dovete fare, proprio nel dettaglio facciamo un approfondimento sull'Italia. Ma oggi invece siamo qui, come vi ho detto, perché ho fatto una ricerchina su diversi paesi in giro per il mondo, ho cercato di prendere i principali, quindi non proprio tutti, tutti, ma quelli dove ci fosse una sorta di vantaggio ad emigrare, se vogliamo non pagare le tasse sulle criptovalute, ma anche se vogliamo pagarle in maniera diversa, insomma, scopriremo un po' di cose interessanti, prima di partire, insomma, se questo argomento già vi stuzzica, già vi interessa, io ve lo chiedo, così, in maniera preventiva, un bel like, perché il prossimo video su tema bitcoin lo faremo solo se arriviamo almeno a 100 like, se non arriviamo almeno a 100 like, io che cosa sto qua a fare? Vado a zappare la terra che faccio prima. Ok, finite le chiacchiere, finiti i convenevoli, tuffiamoci a bomba nella nostra ricerca. Allora, vi dico già che ci sono diverse cose in comune su questi stati, e lo facciamo proprio partendo dal Portogallo, che ha un modo di affacciarsi alla gestione delle criptovalute molto interessante. Allora, vi dico già, ah, altra cosa interessante, io qua vi ho messo un po' un'abbreviazione di come ci si comporta in quel paese, e ho messo anche delle fonti, le vedete? Qua ci sono tutte le fonti, nel caso in cui volete dire, Marco, ma queste cose sono ufficiali dove le hai prese? Ci sono le fonti, e questo file, come sempre, se mi ricordo, ma ultimamente devo dire che mi sto ricordando, ve lo lascio in descrizione. Quindi, trovate il link a questa pagina del mio Notion, dove potete leggere le fonti, leggere tutto, approfondire. Oggi, cioè, non vi faccio da commercialista, ma guardiamo solamente in maniera così un po' sommaria come ci si comporta, però sono informazioni, insomma, che C'è GPT mi ha detto che sono affidabili, quindi pago un abbonamento premio a C'è GPT, sfruttiamolo, cioè dice che sono, c'hanno le fonti, e noi ci crediamo. Allora, partiamo dal Portogallo. Io vi ho evidenziato le cose un po' più interessanti. Il Portogallo impone una tassa del 28% sui guadagni di capitale a breve termine. Questa cosa che io vado a mettere in maiuscolo diventa molto importante, perché questo breve termine, che cosa significa? Significa se questi asset sono detenuti per meno di un anno. Ora, è una cosa che ve lo anticipo già, quindi imbarba il video, vi spoilerò il futuro, tantissimi paesi hanno questo approccio. Cioè, se tu investi nel lungo periodo, io non ti faccio pagare le tasse. Quello è un tuo investimento, la tua pensione, per la tua vecchiaia. Tu non vuoi speculare dal mercato, non stai facendo un lavoro da trader. Stai semplicemente accantonando i tuoi soldi, anziché risparmiandoli in dollari, in euro, in yen, in quello che sia. Te li risparmi in bitcoin? Va bene così. Niente tasse. Se però, invece, tu ci speculi sul prezzo, quindi utilizzi la leva, fai trading, e sostanzialmente tieni quell'investimento per meno di un anno, allora tu lo fai solo per avere più soldi. E allora io ti tasso. Questo approccio, devo dire, che è stupendo. Cioè, lo trovo estremamente corretto. Da una parte il trader, che come lavoro specula, e quindi paga le tasse per il suo lavoro, dall'altra parte il ragazzo, la ragazza, o chi che sia, che dice, invece da qua a 30 anni, e perché dovrei pagare le tasse? In Italia scopriremo che paghiamo le tasse anche senza che guadagniamo. Ma questa cosa ne parleremo dopo, perché ci lamenteremo dopo dell'Italia. C'è tempo, c'è tempo. Leggiamo qua. Il Portogallo distingue tra diversi tipi di reddito derivanti dalle criptovalute. Investimenti passivi, quindi come lo staking, rientra nella categoria e viene tassata al 28%, quindi se io guadagno tramite staking, 28% di tassazione, che è più alta del nostro 26, eh? E qua è un 28. Guadagni di capitale. Quindi, come abbiamo detto, plusvalenze a breve termine, ce le detenute per meno di un anno, sono tassate con una flat tax al 28%, ok? Quindi, di nuovo, potrebbe non convenire, se io sono un trader, andare in Portogallo. Conviene stare in Italia, solo il 26, vedete che non siamo messi così male. Se la plusvalenza è soggetto a un regime fiscale progressivo, quindi che l'aliquota cambia in base a quanto sto guadagnando, per dirla molto semplicemente, l'aliquota può variare da un 14,5% fino a un 53%, per coloro che scelgono di aggregare questi guadagni con altri redditi. Quindi io sono una persona che guadagna tramite affitti, tramite il mio lavoro e anche gli investimenti, metto tutto insieme, guadagno, che ne so, un milione l'anno, questi dicono, allora mi devi dare il 53%. Ora, non sono un fiscalista, non so di preciso, scusate, se qua smettono di inviarmi notifiche, ma sto registrando, potrei mettere il silenzioso, ma ok. Dicevo, non sono fiscalista, quindi non vi so dire con precisione quali sono gli scaglioni per le aliquite, neanche mi interessa, per ora non vi in Portogallo. Se però volete andare, insomma, può essere una cosa interessante. Altra cosa da tenere sotto controllo, le attività di mining sono considerate reddito da lavoro autonomo e tassate come reddito professionale, con aliquite progressive. Quindi, signore e signori, in Portogallo, se acquisite bitcoin e lo tenete più di un anno, esentasse. Questa bella parola quasi magica, esentasse, da farci un tatuaggio quasi. Svizzera, ce l'abbiamo qua a due passi, soprattutto se siete come me nel nord Italia, e un attimo che uno zompa e finisce a Lugano. Tra l'altro, Lugano mi ha anche bitcoin legal tender de facto, quindi è possibile spendere bitcoin in tantissime attività a Lugano. Ne approfitto, non era previsto questo discorso, ma ne approfitto per dirvi che a Lugano, andiamo un attimino qua, eccolo, Lugano Plan B Forum. Signore e signori, c'è l'evento tra poco, il 25-26 di ottobre. Se non avete ancora acquistati i biglietti, se non mi sbaglio, domenica aumentano di prezzo, se non erro. Per ora costano 249 franchi. C'è uno sconto che mi pare sia costanza, quindi scrivete costanza in fase di checkout, e c'è uno sconto che, sono sincero, non ricordo se è il 10 o il 15%. Comunque, sappiate che domenica aumentano i prezzi, quindi se volete venire, potete venire. Lugano, che come vi han detto, è un po' la patria europea di bitcoin, proprio per tutto quello che sta creando. Ma dunque, in Svizzera, visto che Lugano è così bitcoin friendly, come è messo bitcoin? Allora, ricordiamo che la Svizzera è divisa in cantoni, che è un po' come se fossero, appunto, le regioni, e ognuna prende un po' le idee che gli pare e piacciono. Però, a livello generale, leggiamo. I guadagni di capitale ottenuti dalla vendita di bitcoin sono generalmente esentati dalla tassazione, a patto che l'investitore sia considerato un investitore privato e non un trader professionale. Per essere classificato come investitore privato, cosa bisogna fare? Beh, prima di tutto, mantenere quell'asset per almeno sei mesi. Neanche un anno, sei mesi. Voglio dire che sei mesi, tempo di un bull market, voglio dire, e sì che li teniamo per sei mesi. Avere un volume cumulativo di trading inferiore a cinque volte il valore del proprio portafoglio all'inizio dell'anno fiscale, ve la traduco in termini pratici, se io ho un portafoglio da 10.000 franchi, facciamo 10.000 euro, se io però faccio compravendita per più di 50.000 euro, quindi non se quel portafoglio è da 10.000 arriva a 50.000, ma se io compro e vendo per 50.000, quindi di base sto speculando, a questo punto mi viene da dire anche solo se io utilizzo la leva, utilizzo una leva a 10 e io ho 10.000 euro, leva a 10 sono già a 100.000, già ho superati i volumi, quindi qua ti dicono proprio, se ci operi, paghi le tasse. Se però non ci operi e quindi fai semplicemente così la tua operatività molto molto basilare, sei mesi e poi tutti i soldi tuoi. E in più, ah ecco, vedete, mi son portato avanti nel futuro, non utilizzare derivati o leve finanziarie, salvo che per copertura. Non entriamo troppo nel tecnico di che cos'è la copertura, ma banalmente io compro bitcoin e poi mi posso coprire con un contratto derivato short, in modo che io non sto speculando su bitcoin perché posso dimostrare che quella è una copertura semplicemente perché sto comprando BTC e quindi mi copro da un ribasso. Quindi ecco, se non ci avete ancora capito molto, male, significa che dovete fare una consulenza con il sottoscritto nell'ambito finanziario. Ma togliamo questa cosa qua, ritorniamo a noi. Tuttavia la Svizzera applica un'imposta patrimoniale su tutti gli asset, inclusi quelli in criptovalute. Leggiamo qua che può essere soggetto a un'imposta annuale tra lo 0,3% e l'1%, a seconda del cantone di residenza. Se sei considerato un investitore, diciamo un trader professionale o gestisci un'attività commerciale basata sulle criptovalute, i guadagni sono invece tassati come reddito. Questo vale anche per attività di mining e staking. E anche, leggiamo qua, le ricompense derivanti da airdrop. Complessivamente tutte queste cose possono arrivare a un tasso massimo del 40%. Quindi, noi in realtà di staking ce ne frega poco. Su bitcoin non c'è lo staking, siamo una proof of work, però abbiamo il mining. E quindi ecco che il mining comunque qui pagate. Vedremo dopo che ci sono invece stati dove anche il mining se ne infischiano. Quindi, però la Svizzera è comunque molto buona, molto vicino all'Italia, quindi ci si può fare un pensierino. Andiamo poi a Singapore, vogliamo molto lontani. Uno dei paesi più cripto-friendly a livello fiscale. Anche qua, per gli investitori individuali non esiste una tassa sulle plusvalenze. Se invece ti dedichi al trading come attività regolare, può arrivare fino al 22% la tassazione per i non-residenti e varia dallo 0 al 22% per i residenti. Cosa vuol dire dallo 0 al 22%? Lo vediamo qua. Se non sbaglio. No, non è questo. Un'altra cosa. Benissimo. Qua ci dice solamente che varia. Ah, ecco. Varia in base alla fascia di reddito. Per quanto riguarda l'attività di mining e staking, se queste sono occasionali e non a scopo di lucro, i profitti sono generalmente esentati. Quindi, mi immagino che se io non mi apro la mining farm, non c'è problema. Se io ho un mio miner a casa, così ci sta. Se invece io inizio a farlo come attività per guadagnare, metto su... appunto, come si dice, un rig dove metto diversi miner, insomma, la vedo proprio più come un'attività. Allora, lì ci sarà una tassazione. E anche Singapore ce lo siamo tolti. Per ora, in realtà, qua dovrebbe essere ancora meglio. Perché io, se non lo faccio come trading, ma sto comprando e basta, e banalmente penso che anche qui ci sarà come regola sei mesi, un anno tenerli. Altrimenti, come fai a dimostrare che non stai speculando. Ok. Malta, Malta, altro paese molto interessante, molto vicino a noi. Molto amico, soprattutto, di tutto il settore finanziario. Leggiamo qua. Le plusvalenze su investimenti a lungo termine sono spesso esentati. Torna sempre questa cosa del lungo termine. Perché effetto a transazioni frequenti o speculazioni a breve termine, le liquide progressive vanno da un 15% a un 35%. Il mining o lo staking possono essere trattati fiscalmente come reddito ordinario, quindi con una liquida forfettaria del 10% sui primi 10.000 euro di reddito da mining. Le imprese registrate per operazioni commerciale in criptovalute, exchange e bla 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 soggette alla liquida standard per l'azienda del 35%. Poi vabbè ci saranno dei casi ovviamente un po' più limite, delle cose diverse, ma generalmente questo è quello che costa a Malta. Quindi di nuovo, anche in questo paese, se io voglio solo fare detenzione, che è la cosa principale che noi vogliamo fare con bitcoin, non ci interessa speculare. Noi vogliamo bitcoin tenerlo per la pensione. E non si dovrebbero pagare le tasse, perché tu non stai speculando, le stai tenendo. E invece qua paghiamo le tasse anche su quello che non guadagniamo, ma adesso ci arrivo perché sta cosa a me mi manda in bestia. Comunque, comunque, continuiamo. Germania, anche qua possiamo pensare di trasferirci in Germania? Ah perché no, dai, qua è comodo, dai, tutto sommato. Se il tiro in bitcoin per più di un anno qualsiasi profitto derivante dalla vendita è esentato dalle tasse, per le vendite entro il primo anno dall'acquisto i profitti sono soggetti alla liquida dell'imposta sul reddito ordinaria che va da 1,0 a un 45%, con un supplemento di solidarietà del 5,5% applicato ai redditi superiori ai 10.908 euro. Quindi, ecco, siamo tutti più solidali verso il prossimo e gli diamo così i soldi che noi abbiamo guadagnato. Mi sembra giusto. Il mining e lo staking, quindi i profitti derivanti da questa attività, sono generalmente trattati come reddito tassabile. Qua poi c'era, tipo, se l'attività supera 256 euro di ricavi annuali, quindi non è più cosa obbistica, ma è una cosa commerciale, eccetera, eccetera, pago quello che costa la tassazione in Germania. E ci viene detto qua, analogamente i profitti ottenuti da lending o staking sono tassati come reddito, ma solo se questi asset sono detenuti per meno di un anno. Quindi Germania che ci sottolinea che se noi siamo degli investitori di lungo periodo non dobbiamo pagare una beata favola. Andiamo negli Stati Uniti, ve li ho portati più che altro per capire oltreoceano come vanno le cose, poi Stati Uniti, dai, sono gli Stati Uniti, vediamo loro come si comportano. E loro si comportano diversamente. Vediamo qui. Allora, la vendita e lo scambio, l'uso di bitcoin comportano un evento imponibile. Sempre, 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 sempre. C'è però una differenza anche qui da breve termine e lungo termine, cosa che noi non riusciamo a fare. Qui invece la fanno. Se vendi bitcoin entro un anno dall'acquisto, la liquida dell'imposta sul reddito ordinaria, che varia da un 10% a un 37%, penso, immagino, da quanto tu stai guadagnando. Se invece le deteniamo per più di un anno, le plus valenze sono tassate una liquida inferiore, con una fascia che va dallo 0 al 20%. In particolare, chi guadagna meno di 44.625 dollari, per dichiarazioni singole, quindi penso non complessivo, ma tipo solo la dichiarazione cripto, immagino, non paga le tasse. Invece, chi supera questo reddito può essere soggetto all'equida dal 15 al 20%. Quindi, ecco che, in realtà, si può non pagare niente, lo 0%, ma io solo se guadagno meno di questi 44.000 dollari. Quindi, è comunque meglio dell'Italia, perché se io sto guadagnando via, cosa sono? 40.000 euro, 38, quelli che sono. Comunque, non pago le tasse, sempre se li ho detenuti per più di un anno, però, in tutti gli altri casi, comunque, anche qua pago, e anche qui, l'aliquota comunque non è bassa, è come media tra il 10 e il 37%, più o meno siamo lì, quindi anche lì più o meno come una media del 26%. Altra cosa importante in America, mining e staking sono tassati come reddito ordinario al momento della ricezione, e le criptovalute ottenute da attività come airdrops o hard fork sono tassabili se il destinatario ha intrapreso azioni per riceverle. Quindi, mi immagino, se io li ho ricevuti perché qualcuno me li ha mandati a gratis, non ci devo pagare niente, perché mi sono arrivati così. Se però io ho cercato quell'airdrop, ho interagito col contratto, ho utilizzato la DeFi apposta per quell'airdrop, allora devo pagarci le tasse. Andiamo in conclusione con gli ultimi due paesi, che sono El Salvador ed Emirati Arabi. El Salvador, lo conosciamo benissimo, Bitcoin legal tender, quindi qua mi aspetto che non ci siano plusvalenze su Bitcoin. Non solo, qualsiasi reddito derivante da Bitcoin non è soggetto all'imposto sul reddito. Inoltre, El Salvador ha anche fatto in modo che qualsiasi attività legata al settore cripto abbia delle agevolazioni fiscali immonde. Quindi, se volete andare lì e fare business con le criptovalute, avete dei vantaggi allucinanti. Nel Salvador, che fa questo, proprio per accaparrarsi persone in questo settore. Quindi, El Salvador, breve periodo, lungo periodo, lo tenete un giorno, due giorni, 6.000 anni, non gliene frega niente. Non se paga niente su Bitcoin. Ah, che paradiso! Mare, sole e niente tasse. Paese perfetto. Un paese all'apparenza perfetto. Chiudiamo il giro del mondo con gli Emirati Arabi, visto che tanti guru poi saranno anche a Dubai, che voglio dire, oltre a comprare Lamborghini dovranno anche vendere i loro Bitcoin, non esiste un'imposta sul reddito personale o sulle plusvalenze per le transazioni in criptovalute. Ora, qua si parla di Emirati Arabi Uniti, non nello specifico di Dubai. Da quello che so io poi, magari le città e i diversi quartieri, le zone diverse, potrebbero avere delle leggi fiscali magari diverse. Leggevo infatti alcune zone economiche speciali come il Dubai Multicommunities Center e l'Abu Dhabi Global Markets offrono incentivi specifici per le aziende legate alle criptovalute, tra cui esenzioni fiscali complete, proprietà aziendale, estera al 100%. Insomma, anche negli Emirati Arabi, io poi chiedo, conferma, mi raccomando, scrivetemelo qua sotto nei commenti, se abitate in questi paesi, che sia effettivamente così. Cioè, niente tassazione sulle plusvalenze che uno ha dalle criptovalute. Prima di passare all'Italia, e quindi chiudere questo tour mondiale per dare solamente così qualche, qualche chicchettina su come invece funziona in Italia, poi ripeto, se volete l'approfondimento, like a questo video, ma soprattutto commento, ne voglio almeno 50. Tanto so che non ci arriveremo, però se ci arriviamo, vi faccio l'approfondimento, ma ben fatto, è roba tecnico-scientifica. Prima di passare all'Italia, vi dicevo però, facciamo un attimo una puntualizzazione, perché io vi ho fatto vedere il Portogallo, la Svizzera, Singapore, Malta, Germania, il Salvador, Emirati Arabi Uniti, eccetera eccetera. Cioè, non è che io domani prendo un biglietto aereo, vado lì un giorno e dico, ah ciao, io avevo bitcoin da 5 anni, eccoli, mi li fai prendere a gratis, poi torno in Italia. Non funziona, ovviamente così. Penso proprio che dobbiate diventare dei residenti in quel paese, quindi la pratica è abbastanza lunga e soprattutto vi dovete veramente trasferire, a meno che voi non vogliate fare evasione od illusione fiscale, il che significa sfruttare un po' il vantaggio e dire che vi trasferite là, poi in realtà non ci vivete e quindi la vostra residenza rimane in Italia e cercate solo di avere quella fiscale all'estero, ecco in quel caso sono cose che state facendo illegali, per carità, ognuno è padrone del proprio destino, però è illegale. Allora, a quel punto se volete invece stare nella totale legalità vi dovete realmente trasferire in questi posti, quindi bisogna anche capire cosa che io non ho inserito perché se no sto video durava 6500 anni, qual è la difficoltà di prendere la cittadinanza o la residenza fiscale in quei paesi, quindi mi immagino che nell'Europa magari sia un po' più facile per noi rispetto ad altri paesi, però in realtà insomma un sacco di amici che sono andati a Dubai e l'hanno tenuta senza troppi problemi la cittadinanza, quindi insomma l'hanno fatto, però il gioco deve valere la candela, comunque sì che magari non pago le tasse sulle criptovalute, se però mi costa 6000 euro al mese vivere lì e io non ho 6000 euro al mese è anche inutile pensare di trasferirsi, quindi il gioco deve valere la candela, che non so se lo sapevate ma si dice perché nella taverna siccome non c'era la luce si utilizzavano le candele io per tenere la luce accesa dovevo sprecare una candela e quindi sta cosa che stiamo facendo vale la candela nozioni storiche che uno può inserire qua così in una conversazione a cena ve la giocate dicevo di conseguenza fate molta attenzione è vero che la tassazione in tanti paesi è agevolata ma dovete guardare anche poi che vi dovete realmente trasferire quindi guardate bene le leggi non basta andare una settimana in vacanza a Singapore e potete prelevare a gratis ok questo è molto importante chiudiamo il tour con la nostra amica Italia dove perché io vi dicevo che pago le tasse anche addirittura anche se non guadagno ma io lo tengo un giorno e non ci guadagno devo pure pagarci le tasse perché perché in realtà noi abbiamo una cosa oltre alla tassazione che adesso vediamo abbiamo una cosa chiamata imposta di bollo vediamo se ve la trovo vediamo se ve la trovo dov'è 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 dovrebbe essere qua no non la trovo vabbè ve lo dico io non l'ho scritto eppure mi ero tenuto questa cosa eccola qua c'era c'era anche scritto non la trovavo imposta di bollo tutti i possessori di criptovalute in Italia devono pagare un'imposta di bollo annuale dello 0,2% sul valore delle criptovalute detenute alla fine dell'anno fiscale cioè all'Italia non gliene frega niente che tu le abbia comprate per te per tuo cugino per tenerle un giorno per tenerle un anno per la tua pensione per comprare una zè problemi tuoi intanto lo 0,2 su quello che hai me lo paghi il che vuol dire che tu per pagare quello 0,2% se non vuoi pagarlo con i tuoi soldi ma vuoi pagarlo con i soldi dell'investimento delle criptovalute dovresti anche venderle cripto per avere quei soldi per pagare quell'imposta ma se tu vendi le cripto devi pagare anche la plusvalenza se superi 2.000 euro eh? così così giusto per ricordarci e per ricordarmi ogni volta perché sono ritornato qui anziché starmene nella terra dei canguri così giusto per per ricordarlo detto questo in Italia come funziona lo sappiamo benissimo la tassa è fissa al 26% per i guadagni superiori 2.000 euro quindi ripeto non c'è distinzione di breve o lungo periodo eh ovviamente non è solo se io ho fatto un profitto quindi ho fatto cash out cioè una conversione un'altra valuta ma anche se io l'ho scambiato ad esempio e qua però l'Italia è molto fumosa non si è ancora capito cosa intendesse se io scambio con una criptovaluta di diversa entità cioè tipo prendo stablecoin a quel punto è fiscalmente rilevante sì perché la stablecoin è fatta per tenere il prezzo quindi dovrei pagare le tasse però di base non c'ho euro quindi per pagare le tasse come diavolo faccio dovrei vendere stablecoin quindi non c'è non so vabbè non voglio nemmeno entrare in queste cose oppure utilizzi bitcoin per acquistare beni o servizi e quindi se noi compriamo qualcosa con bitcoin in quel momento è proprio come se facessimo un cash out quindi ecco di nuovo che ci vanno pagate le tasse poi vabbè c'è una sorta di rivalutazione che possiamo fare questo come ci dice qua da qualche parte per riuscire a pagare il 14% anziché il 26% perché possiamo rivalutare il capitale ripeto se volete ulteriori dettagli me lo chiedete vi faccio l'approfondimento sull'Italia perché è complicatissimo siamo in Italia e quindi nel caso lo facciamo ma vi chiudo con mining e staking che anche qui sono tassati al 26% se poi sono un'attività professionale allora seguirò le varie aliquide progressive che vanno dal 23 al 43% con giusto come ciliegina sulla torta potenziali addizionali regionali fino al 4% che non fa mai male che ci sta sempre bene insomma la tassa è così 4% in più chi se ne accorge chi se ne accorge ovviamente poi posso recuperare minus valenza e plus valenza questa almeno è una cosa positiva però vi ripeto se volete una cosa molto più dettagliata scrivetemelo qua sotto ultima informazione per chi ancora è all'ascolto questo perché sono un pessimo youtuber che non sponsorizza mai le sue affiliazioni ma se avete bisogno di qualcuno che vi aiuti con la tassazione cripto in italia ripeto che avete ancora pochi giorni per per starci dietro soprattutto se non avete fatto le cose prima ci sono due servizi che io consiglio di utilizzare li trovate sul mio canale quindi andate su marco costanza qua su youtube uno è cripto books quindi trovate il video qua dove vi parlo di cripto books pagare meno tasse sulle cripto valute in modo legale il video è interessante vi consiglio di guardarlo e l'altro è tatax ve ne parlo perché ho sotto quei video molto probabilmente ma comunque il codice sconto è nel 99% dei casi costanza con il mio codice sconto avete uno sconto e quindi insomma tanto è un servizio che voi dovete utilizzare fate un favore a me perché io sono affiliato con queste realtà quindi mi mandate una piccola commissione per aiutare a sostenere il canale e voi ci guadagnate perché pagate meno quel servizio le due principali differenze sono che tatax non funziona per numero di transazioni che fate ma per il capitale che avete al contrario cripto books non gli interessa che voi abbiate un milione di euro o mille euro ma dipende quante transazioni fate perché ci sono diversi abbonamenti in base o al numero di transazioni o al capitale quindi guardate la vostra situazione cercate di capire se voi avete tanti soldi pochi soldi operate tanto o operate poco e in base a questo scegliete poi una delle due soluzioni quella che ovviamente vi va a costare meno perché sono tutte e due estremamente valide quindi insomma il mio consiglio è scegliere quella che vi conviene di più economicamente detto questo vi lascio i video cioè vi lascio i link di questi video qua sotto anche se mi ricordo così ve li guardate per bene guardate la piattaforma guardate che vi piace soprattutto capite come funzionano noi ci vediamo prossimamente con nuovi entusiasmanti video buona giornata a tutti grazie per l'ascolto un beso e mettete sticca di like perché dobbiamo crash dobbiamo crash dobbiamo fare views dobbiamo salire io voglio 2025 voglio fare youtuber quando mi chiede che lavoro lo fa io lo youtuber quindi rendiamo in realtà questa cosa a presto ciao 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 Grazie a tutti.